Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare di un punto di acupuntura ovvero il pericardio 1 in lingua cinese Tianqi o Tianqi. Per comprendere bene un punto di acupuntura occorre inserirlo nel complesso di conoscenze e teorie della medicina tradizionale cinese. L'acupunto pericardio 1 è allocato pertanto sulla strada di connettivo meridiano pericardio, che ha relazione con l'orbita funzionale che porta lo stesso nome. L'orbita funzionale pericardio è associata a quella del triplice riscaldatore entrambe nella fase evolutiva fuoco. Queste due costituiscono un insieme di organi funzioni tessuti tutti uniti dalla stessa finalità biologica e sociale. L'orbita funzionale pericardio contiene i seguenti organi e tessuti. Il cuore cardiologico, le arterie, le vene, i vasi linfatici, l'insieme della circolazione e per gli odontoiatri gli ottavi dell'arcata inferiore e superiore, i denti del giudizio. Osserviamo che mentre il cuore cardiologico è inserito secondo la medicina tradizionale cinese nell'orbita funzionale pericardio, nella orbita funzionale cuore, troviamo invece tutte le funzioni extra cardiologiche di cuore. Il termine pericardio è stato scelto perché nella sua fisicità è il tessuto che avvolge il cuore pompa proteggendolo. In tal modo si allude a come le funzioni cardiologiche o pompa siano altrettanto una forma di protezione, in questo caso per la sofferenza emotiva della persona. Il battito cardiaco è infatti una delle prime variabili corporee a modificarsi in seguito a emotività. L'orbita funzionale pericardio è per molti agopuntori difficile da distinguere dall'orbita funzionale cuore. Pertanto essa ha ricevuto nel corso degli anni diverse traduzioni dal cinese antico. Molto sono in realtà più un'interpretazione che una traduzione, anche per le difficoltà poste dal cinese antico. Da ciò deriva che al posto della parola pericardio si utilizzano oggi molti altri termini. Maestro del cuore, ministro del cuore, circolazione sesso, vasi sanguini sono quelli più diffusi. L'orbita funzionale pericardio corrisponde inoltre a livello emotivo al campo della gioia e a livello mentale al conflitto dello sciamano, ovvero quello dell'unità del clan. Il mio clan si disgrega in fazioni. Le fazioni del mio clan sono in lotta fra loro. Non sono riuscito a tenere unite le diverse fazioni in lotta. Parte del mio clan è andata altrove. Il mio clan vive in perenne dissidio, rancore, divisione, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte problematiche che riguardano la sfera del pericardio. In soluzione il soggetto conquista i conflitti e esprime il suo talento nell'elevare il proprio clan al di sopra delle problematiche contingenti. Indicare una via alta e non confessionale all'esistenza umana e alleviare la sofferenza fisica e animica degli uomini. Pericardio uno si alloca uno zun al lato del capezzolo. Nel quarto spazio intercostale tre zun sotto la piega ascellare anteriore. Bianchi, tradotto dal cinese in latino, diviene stagnum che l'este. Pericardio uno è il punto di arrivo e il punto di riunione con molti altri meridiani. Un punto di arrivo del meridiano secondario che parte da triplice riscaldatore baso-concezione. Punto di riunione per rene, vescica pigliare e pericardio. La sua funzione è quella di eliminare calor e ventus, soprattutto dalla zona toracica. Vediamo le indicazioni cliniche per pericardio uno, almeno per come risultano dai testi antichi. Questo agopunto apre la superficie, elimina ventus, disperde umidità. Pericardio uno si utilizza pertanto per le malattie vento e le malattie umidità che impegnano la cassa toracica e il sistema circolatorio. Il paziente in questo caso lamenta dolore toracico e l'avambraccio, la febbre senza sudore, la dispnea, la tosse, il dolore articolare diffuso, la cefalea, disturbi visivi. Pericardio uno in cinese significa stagno del paradiso. I nomi cinesi hanno quasi sempre un significato simbolico. Lo stagno è un'immagine delle energie struttive, liquide e yin. Il paradiso, al contrario, è un'immagine delle energie attive, cosmiche e yang. Il punto, oltre le applicazioni cliniche nel disperdere il vento umidità, ha anche un'alta funzione, ovvero quella di equilibrare lo yin e lo yang nella gabbia toracica. Un'allusione alle funzioni cardiologiche e extracardiologiche di cuore. Occorre pertanto distinguere un cuore pompa da un cuore campo. Il campo elettromagnetico emesso dalla contrazione cardiaca è infatti il più vasto del corpo umano e può essere registrato a distanza dal corpo. Pericardio uno equilibria, secondo tale ottica, le disfunzioni tra cuore e pompa, ovvero lo stagno, lo yin, e il cuore campo, ovvero il cielo e lo yang. Il cuore pompa è la funzione cardiologica. Il cuore campo è la funzione extracardiologica. Il cuore pompa provvede alla contrazione cardiaca. Il cuore campo è il luogo in cui si manifestano le emozioni. Il cuore pompa è il motore della circolazione, mentre il cuore campo è il motore della vita stessa. Il cuore pompa riguarda esclusivamente l'individuo. Il cuore campo è partecipato, dunque riguarda l'individuo e chi gli sta accanto. Tutto ciò che è cuore pompa è pericardio. Tutto ciò che è cuore campo è cuore, secondo la tradizione cinese. Ebbene, il punto pericardio uno ha la funzione di equilibrare eventuali disfunzioni tra il pericardio e il cuore. La stimolazione di un punto di agopuntura avviene generalmente all'interno di un trattamento, che stimola anche altri agopunti, tutti scelti secondo il soggetto malato e non secondo la malattia, ai quali si aggiunge la prescrizione per bocca di rimedi. Si tratta di una terapia complessa, estremamente personalizzata, somministrata da un medico dopo precisa diagnosi. Bene, siamo alla fine del video di oggi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, ma soprattutto abbiffate la campanella. Questo vi consentirà di essere avvertiti riguardo la pubblicazione di nuovi video sul canale. Spero di vedervi presto ancora. Arrivederci!